Un settore che frutta circa 40 miliardi di euro all'anno fermo e che guarda il futuro con incertezza. Stiamo parlando del wedding che, secondo quanto evidenzia il musicista di San Sappino Pinto, ad oggi attende ancora di capire su quali scelte basare il proprio futuro. Sono centinaia anche nel Vallo di Diano le coppie che avevano programmato di unirsi in matrimonio in quest'anno. Cosa ne sarà di quel giorno e quando arriverà ora è un punto interrogativo. Va considerato che i matrimoni vengono programmati di anno in anno con prenotazioni e scelte di abiti, musica, fiori, bomboniere ed altro per rendere perfetto il giorno del sì. Pino Pinto conosce bene le dinamiche organizzative di un matrimonio con gli operatori che necessitano di programmare per essere pronti. Ciò richiede importanti investimenti preventivi che per i matrimoni che dovevano tenersi in questi mesi di stop erano già stati effettuati e ora si sono trasformati in una spesa senza guadagno. Come musicista, showman, produttore di me stesso, dichiara Pino Pinto, mi sono visto costretto a modificare radicalmente il mio lavoro. Fino a dicembre sarei stato impegnato in numerosissimi matrimoni ed eventi che ora sono drammaticamente in sospeso. Quelle prenotazioni mi avevano spinto ad effettuare investimenti importanti ma il coronavirus che ha portato all'annullamento dei matrimoni previsti in questi mesi primaverili mi hanno lasciato solo errate mensili mentre gli sposi che avevano programmato le nozze per giugno, luglio, agosto sono ancora nel limbo. Possibile che per un settore vitale per l'economia come quello dei matrimoni non è stato preso nessun provvedimento serio da parte del governo. Pino Pinto però non si ferma a valutare la sua situazione ma pensa anche agli altri operatori impegnati nel wedding come le 700 aziende di produzione delle bomboniere che crea occupazione per circa 30.000 persone e poi fiorai, gioiellieri, esteristi e parrucchieri, agenzie di viaggio, tipografie, ristoratori, tutti i settori che seppur non operano esclusivamente nel comparto del wedding, da quest'ultimo traggono gran parte del profitto. Consigliando quindi agli sposi di non annullare la festa del matrimonio ma di riprogrammarla con una nuova data invernale oppure la prossima estate, ricordando la disponibilità di aiutare gli sposi ad orientarsi in questo periodo di incertezza, lancio un messaggio positivo. Continuate a pensare alla vostra canzone preferita per il primo ballo, all'abbraccio forte e alle lacrime di commozione dei vostri genitori. Sono certo che tutto ciò avverrà. La passione e l'amore avranno sempre la meglio su tutto. Inoltre, Pino Pinto lancia anche un appello ai tanti operatori del settore wedding per far fronte comune nel chiedere maggiore tutela. Essere soli e gridare con un'unica voce è come andare a combattere con le pistole ad acqua. Dobbiamo unirci e gridare la nostra protesta all'unisono, magari istituendo un comitato formato da tutti coloro che operano nel settore. Possibile che siamo uno dei pochi ambiti non tutelato da un sindacato? Cerchiamo di unirci, sottolinea in conclusione Pino Pinto, di avere un rappresentante per la circoscrizione Vallo di Diano affinché la nostra voce non resti fine a se stessa e non resti inascoltata.